Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradale regionale e in FIPILI. Possibili rallentamenti per un incidente in A12 tra Livorno e Pisa Centro nella carreggiata in direzione di Genova. Per le statali sull'Aurelia, corsia chiusa per lavori tra il bivio per Riotorto e il bivio per Venturina in direzione nord. Ci spostiamo sul raccordo Sena-Firenze e ricordiamo che lo svincolo di Poggi Bonsi Nord è chiuso in direzione di Firenze fino all'11 ottobre per cantieri. E ancora per cantieri sulla SP18 Braccia di San Clemente, nell'area metropolitana fiorentina, il ponte tra Rignano e Reggello è chiuso fino alle 20 di questa sera. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie! Grazie!